Grazie. Grazie. È un piacere poter portare il saluto questa sera qua a tutti voi, a tutti voi Vigili del Fuoco, alle autorità civili, militari e religiose che quest'oggi, questa sera qua con noi sono per aprire questo 27esimo campionato nazionale DC per Vigili del Fuoco. Il saluto di tutti i Vigili del Fuoco Pantini che hanno il piacere di avere tutti i colleghi qua questa settimana in questa bellissima valle che si è ospitato, che ci ha deliziato con le proprie attrattive e che saprà entusiasmarsi con le piste da C in questi tre giorni di gara. E noi ringraziamo anche il Presidente Flaim e cediamo ora il microfono al capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Grazie. Grazie perché questo serve a tutti noi, a tutti i Vigili del Fuoco per rivedersi, per ritrovarsi, per stare insieme, per scambiarsi le esperienze, per fare quella grande famiglia che è la grande famiglia del mondo dei Vigili del Fuoco. Grazie a tutti. Appuntamento a tutti l'anno prossimo a Cortino Manpezza. Grazie. Questo quello prevede la consegna di una targa. Pensate che questa consegna arriva direttamente a nome dei Vigili del Fuoco degli Stati Uniti d'America. A consegnare la targa è Sua Eccellenza l'Ambassatore dello Stato dell'Arkansas, il Comandatore Dottor Leopoldo Rizzi, che rappresenta il Capo di Stato e Governatore, spero di pronunciare bene, Mike Vivi. Allora, mentre avviene la consegna da parte di Sua Eccellenza il Dottor Leopoldo Rizzi, vi leggo la motivazione, che è la seguente. Alla Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per aver sempre salvaguardato l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni con immediatezza della prestazione di soccorso ed alta professionalità tecnica. In Italia, come negli Stati Uniti, i Vigili del Fuoco sono modello di riferimento. 11 settembre 2001, New York. 6 aprile 2009, L'Aquila. Ritira la targa l'ingegner Alfio Pini, Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Io ringrazio, ringrazio di cuore, ma credo che a nome di tutto il Corpo Nazionale sia da dedicare questo riconoscimento, non soltanto al Corpo Nazionale, ma a tutti i Vigili del Fuoco che hanno operato e che ogni giorno operano per la sicurezza della collettività. E ci sono dati da fare soprattutto lavorando insieme con tanto impegno in occasione del tremendo disastro che ha colpito l'Aquila. Quindi grazie a nome di tutti i Vigili del Fuoco. Ecco, io so che per contraccambiare, credo che l'ingegner Alfio abbia qualcosa da dire e da fare. Beh, ricambio, ricambio con il simbolo dei Vigili del Fuoco di tutto il mondo, il nostro casco. Ecco, dopo questo momento davvero importante, credo, e credo comandante, io la ringrazio a nome dei Vigili del Fuoco americano e questo casco che ha più di un significato sarà messo sul tavolo del Governatore. Grazie. Grazie. Vedete la fiaccola portata da Faustino Ritz, vice del Fuoco più anziano in attività sportiva. Grazie.